Il punto conquistato sabato scorso a Ravenna serve al Foggia più per il morale che per la classifica, che resta infatti preoccupante. Avesse perso anche al Benelli, il Foggia sarebbe sprofondato in una crisi psicologica tipica delle squadre che non fanno punti pur meritane. Anche con il Ravenna, infatti, come era accaduto con la Ternana, il Foggia, riveduto e corretto dopo il mercato di riparazione, non è dispiaciuto. Almeno per un'ora ha tenuto testa al quotato avversario, mostrando anche personalità e volontà di offendere. Purtroppo, però, così come accadeva già con la squadra di Porta e Pecchia, anche quella di Ugolotti mostra limiti in fase di finalizzazione. Limiti che, si spera, possano essere superati con il miglioramento della condizione atletica dei nuovi arrivati. Il Foggia fatica soprattutto negli ultimi 16 metri, dove mai Ceccarelli, terminale offensivo, è riuscito a liberarsi per il tiro, nei compagni sono stati mai capaci di metterlo nelle condizioni di battere a rete. Alla fine, le conclusioni verso la Porta si sono contate sulle dita di una sola mano e nessuna ha davvero impensierito il portiere romagnolo. Viceversa, Bindi, protagonista in negativo con la Ternana, è stato decisivo in almeno due circostanze nel finale di gara, quando il Foggia, ridisegnato anche nel modulo da Ugolotti a difesa del pareggio, ha stretto i denti per tornare a casa in battito. Ora però serve una vittoria, ancora di più un paio di vittorie consecutive. Solo così si può risalire adeguatamente la classifica, come hanno insegnato Andrea e Cadese. Classifica dove il Foggia ha fatto un piccolo passo avanti che gli ha consentito di scrollarsi di dosso il Pescina, battuto nel recupero di Rimini, e di avvicinare Real Marcianise e Giulianova. Ma la salvezza è ancora distante. Quattro lunghezze.